E mo' vi beccate anche la recensione dell'amorbidente fabuloso concentrato che nelle nuove profumazioni era uscita tra le varie aromatizzazioni con questa ai fiori bianchi e cocco. Allora, la prima cosa che si evince è proprio l'odore di cocco, quel cocco tipico anche dei solari che mettete addosso l'estate per esporvi sulla spiaggia e che ha anche quei fiori bianchi. In realtà io ci sento anche qualcosa che richiama un po' l'estate, quindi il monoi sinceramente. Allo stesso tempo non è proprio contemplato, quindi credo che sia più il mio naso che lo faccia da sé. Comunque è sicuramente una profumazione di tipo esotica, perché oltre il cocco appunto rimanda proprio questa idea di avvolgente di profumo di mare, qualcosa di veramente piacevole. Non so descrivervelo, ce ne sono pochi di ammorbidenti sinceramente che mi piacciono. Uno che adoravo tantissimo, tra l'altro non c'è neanche più in commercio come profumazione, chiaramente. Ma adesso che è uscita questa, credo che ogni volta che lo troverò in offerta farò delle super mega scorte, perché è davvero l'odore che io voglio sentire sui miei vestiti, quantomeno in estate. Poi vi saprò dire che la stessa profumazione in inverno mi darà la stessa soddisfazione. E anche per casa, perché poi chiaramente l'ammorbidente una volta che avete steso i panni vi inebria per tutta casa, o quantomeno nella stanza in cui mettete a stendere i panni. La cosa bella tra l'altro di questo, che io non so se è una caratteristica di tutti fabuloso, allo stesso tempo è l'unico ammorbidente con il quale oggi ho sperimentato questo, al tatto i panni sono diversi. Cioè quando li tirate fuori dalla lavatrice, proprio mentre li toccate, anche quelli che avete usato di più sembrano tessuti nuovi. Sono più morbidi veramente, cioè li sento davvero tanto, 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 tanto morbidi, ma tanto ragazze, proprio tanto, tanto. E con il coccolino l'ho usato, non mi vengono in mente tutti i nomi degli ammorbidanti. Comunque insomma ne ho usati diversi, come ognuno di noi tra l'altro, perché immagino ogni volta che usciva una confezione carina che sembrava allettante, o una profumazione nuova, insomma ne abbiamo sperimentati, ma come questo, nel momento stesso in cui lo tiro alla lavatrice e li metto a stendere, quella sensazione di tessuti morbidi, io non l'ho mai sperimentata prima. Quindi fatemi sapere se è una caratteristica di tutti fabuloso, o se solo questo, con oli essenziali di fiori bianchi e cocco, riesce a regalare. E quindi ve lo segnalo per la profumazione e ve lo segnalo per questa caratteristica. E aspetto informazioni da parte vostra, perché se davvero tutti fabuloso sono così, e questa mi dovesse stancare come profumazione, non la sentissi adeguata per l'inverno, insomma potrei sperimentare anche gli altri delle ultime formulazioni. E niente, un bacione a tutti!